Francesco Pistoi, buongiorno. Buongiorno. Benvenuto davvero per raccontarci di una manifestazione, di un evento, di un appuntamento, di tante cose messe insieme, perché quando c'è di mezzo Tremlet sicuramente l'arte è difficile poi da catalogare. Francesco Pistoi è qui insieme con noi per raccontarci di questi appuntamenti insieme all'arte di David Tremlet che ritorna di nuovo in Langa. Lei, Francesco Pistoi, rappresenta la Galleria Lunetta 11, che è questa giovane realtà in Langa creata insieme con Claudia Zunino. Anzitutto partiamo proprio da lì. Perché Lunetta 11? Perché la borgata che abbiamo restaurato in Alta Langa si chiama Lunetta, il numero civico è l'11, dove abitiamo, dove è alla sede della galleria. E quindi alla fine è stata una scelta semplice chiamarla Lunetta 11, perché è una piccola borgata che nasce su una cresta di langa in mezzo a un bosco a forma di mezzaluna. E lei ci ha dato la spiegazione di riferimento geografico, ma adesso il riferimento culturale artistico, perché Lunetta 11 nasce per l'arte? Ma perché, insomma, io ho una famiglia, mio padre si chiamava Luciano Pistoi, ha avuto gallerie, la prima galleria d'arte che ha avuto era nel 1957, ha sempre fatto gallerista d'arte. Mia madre anche, io ho fatto musicista, ma vivendo a Torino con la mia compagna che è mia moglie che è la del Zunino, ci siamo trasferiti nelle langhe e abbiamo deciso un po' di continuare la tradizione di famiglia a prendo una galleria d'arte in un bosco e cercando di lavorare con giovani artisti emergenti italiani e non italiani. E poi abbiamo avuto la fortuna di avere dei padrini d'eccezione, come Giulio Paolini, David Tremet, che ci aiutano a portare avanti il nostro lavoro, che è basato comunque prevalentemente sugli artisti giovani. Eh sì, basato sugli artisti giovani ed è questo molto importante perché rappresenta il futuro, tra l'altro, a proposito, lei ha citato Giulio Paolini, lo racconteremo prossimamente perché ci sarà una mostra dei musei civici di Verona, Giulio Paolini, Etting Arcadia Ego, che comincerà questa mostra, comincerà il 15 di ottobre, ma torniamo a lunetta 11 con queste mostre diffuse sul territorio. Lei parlava di bosco, ma l'arte nel bosco, come la rappresentate? Ma è stato, abbiamo iniziato a fare questo lavoro 5 anni fa, abbiamo messo insieme dei comuni, l'idea era di mettere insieme dei comuni che l'Altalanga fino a qualche anno fa era molto meno visitata. In questo momento invece è diventata più turistica. Abbiamo messo insieme il comune più alto delle Langhe, che si chiama Mon Barcaro, San Benedetto Belbo, che è un comune un po' più conosciuto perché era il comune dove Fenoglio passava le vacanze, e i Dogliani, che è invece un comune più grande, il comune dove Luigi e Naudi, quindi anche un comune importante delle Langhe. Abbiamo iniziato a fare un lavoro con loro pensando di fare delle mostre diffuse sul territorio e utilizzando dei luoghi che loro tenevano chiusi da anni. Quindi ci sono delle cappelle che siamo riusciti a riaprire, che anche loro non vedevano più da tantissimi anni, che erano sempre chiuse. Questo perché c'è stato un grande spopolamento nelle Langhe, mentre invece ora la tendenza è molto cambiata, uno spopolamento che è arrivato nel dopoguerra. Ormai la tendenza è completamente diversa, i ragazzi non partono più, si sono ripresi il territorio. Quindi l'idea era di fare riscoprire dei luoghi chiusi da anni attraverso l'arte contemporanea, in una maniera molto semplice, senza dover fare delle sculture monumentali. Ma l'idea era proprio di esporre dei quadri in dei luoghi, di fare dei progetti artistici in dei luoghi che erano ormai un po' dimenticati. Abbiamo iniziato cinque anni fa e ha avuto un enorme successo, perché poi sono dei percorsi molto belli che si possono fare a piedi in tantissime maniere. Fino ad arrivare a questa prossima azione artistica che vedrà protagonista Tremlett, che ritorna di nuovo in Langhe dopo aver rivisitato, potremmo dire così artisticamente, la Cappella alla Morra e poi la Chiesa di Coazzolo e, se ricordo bene, poi la Cappella alla Relè San Maurizio. Anche una a Serravalle Langhe, meno conosciuta, ma anche quella. Mi sono perso un lavoro, ma per chi non lo conoscesse in un minuto, chi è David Tremlett? David Tremlett è nato nel 1945 a D'Austel in Cornovaglia. Lui ha studiato scultura a Londra e poi ha iniziato a viaggiare molto il mondo nella fine degli anni 70, un viaggio dall'Inghilterra a piedi fino all'Australia, un viaggio incredibile, fantastico, che ha fatto l'Africa, l'Iram, Afghanistan, India. E viaggiando lui ha avuto un grande contatto con delle superfici dipinte e da lì ha iniziato a usare i pigmenti colorati fino appunto a fare questi wall drawing e questi grandi dipinti che lui fa esterni. Nel caso di quello che faremo nell'inaugurazione del 9 settembre a Dogliani nella chiesa, nella cappella della Sacra Famiglia sarà un'opera abbastanza curiosa fatta da David perché non ci sarà il colore, o meglio il colore sarà il nero perché questa grande opera che sta realizzando dentro la cappella della Sacra Famiglia è dedicata a un suo caro amico con cui avevano già collaborato insieme, poi è scomparso, che era Ezio Bossio ed è un grande lavoro fatto, sarà come un grande monolite fatto in grasso di grafite nero quindi sarà come un gigantesco monolite nero. E lui sta già, e David Ramlett è già adogliani per la lavorazione? Arriva domani mattina. E quindi comincerà la lavorazione di questa installazione artistica, lavorando con le mani? Lavorando sempre con le mani, l'idea di David anche quando fa le superfici dipinte l'idea è che il colore venga sempre dato con le mani quindi è una parte che alla fine sostituisce il mezzo che può essere il pennello con le mani quindi è direttamente collegata al corpo sempre. Ma questa installazione artistica, diversamente da altre, avrà un suo tempo? Quando scadrà il tempo? Questa installazione artistica avrà un suo tempo, scadrà il 6 novembre, sarà l'ultimo giorno. E in che modo potrà avere questa data di scadenza? Che cosa succederà il 6 novembre? Il 6 novembre chiuderemo la mostra e smonteremo l'opera. L'idea era di non fare un'opera che è stata proprio un'esigenza tra noi e David che fosse, visto che appunto le Langhe sono costellate di sue opere che sono sempre visibili questa idea era di fare un omaggio ad Ezio che poi andasse via perché in fondo partiva un po' proprio dal titolo che ha dato all'opera che è una sonata di Ezio che si chiama Rain in Your Black Eyes che è una sonata che aveva composto nel 2016 e l'idea è un po' quella che sono un po' l'idea che l'opera sia poi una cosa che si fa fatica a lasciare andare ma deve andare via e quindi non abbiamo voluto fare una cosa permanente. E' bella questa idea, questa immagine che ci ha dato Francesco Pisto e l'arte che deve poi andare via perché uno la sapore in un'altra maniera, la apprezza in un modo diverso perché la caducità e la fragilità anche di un'opera d'arte che si pensa sempre, si pensa forse l'opera d'arte in eterno per eccellenza e quindi questa caducità riflette poi anche la nostra vita. E' una fantasia che noi ci facciamo purtroppo le opere d'arte se ben mantenute sono eterne però ogni tanto è anche bello che non ci siano più che spariscano e poi se Dio vuole nascono sempre altri progetti e cose nuove però l'abbiamo pensato in questo senso così che non fosse, fosse un po' purtroppo quello che ha rispecchiato la vita di Ezio quindi un'apparizione. Tutto comincerà sabato 9 di settembre a Doliani dall'inaugurazione alle 11.30 dell'opera Rain in your black eyes per Ezio l'opera d'arte di David Remlet e noi ringraziamo Francesco Pistoi del tempo che ci ha dedicato e buon lavoro con l'arte. Grazie, buona giornata.